Venerdì 21 febbraio 2020, 52esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Sante Leonora. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eleonora. Il nome deriva dal provenzale Eleonor e potrebbe significare creatura che ha pietà, creatura della luce. Eleonora è una persona determinata, ma sempre educata e rispettosa della libertà e dell'opinione altrui. Accadde oggi. Il 21 febbraio del 1965, a New York, viene assassinato Malcolm X da membri della Nazione dell'Islam. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 21 febbraio, ricordiamo la cantante americana Nina Simone e il cantante Tiziano Ferro. La citazione del giorno. Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Seneca. Dice il saggio. Prenditi la buona occasione quando ti capita, perché la cattiva non manca mai. Il bel paese. Secondo la leggenda, davanti a Isola di Capo Rizzuto in Calabria, un tempo esisteva un arcipelago con sette castelli. Oggi a dominare questa splendida baia è rimasta la fortezza aragonese di Le Castella, posta praticamente in mezzo al mare, collegata alla terraferma da un sottile lembo di terra. Circondata dalla riserva marina di Capo Rizzuto, la più estesa in Italia, la fortezza offre una splendida vista sul marionio e sulla natura circostante. Da una delle sue stanze, grazie a delle telecamere subacquee, si possono osservare anche i fondali. Oltre alla fortezza, i viaggiatori saranno conquistati dalle splendide coste, dove si susseguono spiagge di diversi colori e resti archeologici greco-romani tuttora visibili.